Gli allevatori lucani avranno tempo fino al 31 gennaio prossimo per compilare la domanda online per l'ottenimento dei contributi del Piano di Sorveglianza Sierologica 2011, del virus della febbre catarrale degli ovini, la cosiddetta Blue Tongue. Lo ha stabilito l'Aggiunta regionale che ha prorogato la precedente scadenza del 31 ottobre 2012. La riapertura dei termini si è resa necessaria per consentire la presentazione online delle domande da parte degli allevatori, che nel 2011, pur partecipando all'attuazione del Piano, attraverso domanda in formato cartaceo, non avevano poi utilizzato la procedura online previstata al bando. In particolare la procedura prevede due fasi, la prima riguarda l'ottenimento del codice di attivazione. Se si è in possesso della firma digitale, lo stesso può essere richiesto attraverso il portale www.basilicatanet.it. In caso contrario, il codice di attivazione potrà essere richiesto allo sportello URP del Dipartimento Agricoltura. Una volta ottenuto il codice di attivazione attraverso Basilicatanet, sezione Consultazione Avvisi e Bandi, è possibile compilare e inviare la domanda. L'invio online ha valore di presentazione all'ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura della domanda.